Erba da tagliare e da curare. Le segnalazioni arrivano dai comaschi residenti nel quartiere di Rebbio che si trovano a camminare su marciapiedi dove piante verde sono una presenza ingombrante. Le strade al centro delle Lamentele sono le vie a Lebbio, Durini e Cuzzi. La zona è quella della scuola Antonio Fogazzaro che ospita alunni di elementari e medie. Qualche difficoltà per mamme e bambini, carrozzine e anziani. I cittadini chiedono un intervento da parte del comune per sfalciare, ripulire e restituire decoro. A poche decine di metri di distanza anche in piazza Camerlata lo scenario non cambia. Lo stesso verde ai piedi della fontana è cresciuto rigoglioso. Probabilmente in parte hanno contribuito le piogge frequenti delle ultime settimane. La situazione è nota e stiamo cercando di non sottovalutare nulla, ha assicurato l'assessore al verde di Palazzo Cernesi Marco Galli. Dal centro alla periferia stiamo passando in rassegna le diverse zone con continui sopralluoghi e nei prossimi giorni interverremo anche a Rebbio. Già programmato entro domenica aggiunge infine l'assessore il lavoro in piazza Camerlata. Il monumento è noto si tingerà di rosa per l'arrivo a Como del Giro d'Italia.